Eccomi, venerdì si chiude qui una settimana e Mr. Universe Top Male Model, Michele De Falco, super esclusiva per voi, poi vedremo chi sono. Scusate, io voglio parlare un attimo con i due Mr. Mr. Universe Top Male Model. Mentre Mr. Universe Top Male, che significa maschio, model, è di tutto lui, è super, è super tutto. Barbara, di dove potevo essere se non di Napoli? No, vabbè, allora che te vuoi? Ma allora che ha già fatto? Quest'anno Napoli ha vinto, quindi ci manca solo lo scudetto. Tu quanti anni hai? Io 22, a dicembre 23. 23, e Mr. You Top Male Model, e quale femmina ti piace qua di più? I gusti mi sono un po' particolari, mi basso molto su scarattere, però se una ragazza mi prende... Non guarda i colori. Non guarda i colori, dice Katia, va bene tutto, muore più l'amora. Allora, noi abbiamo fatto un esperimento, chi ha le ali di gabbiano? Tu sei un po' ali di gabbiano, Miss Top Universe Male, mentre invece lui... No, perché abbiamo mandato Miss Universe Top Male French Wound Model, l'abbiamo mandato dall'estetista, perché anche gli uomini vogliono essere belli, è mica solo tu Soleil. Giustissimo. Guarda, guardate, guardate. Ciao Barbara, ti mostro la mia giornata da mister, seguimi. Ciao Maria Cristina. Ciao, come va? Tutto bene? Che regalo mi fai oggi? Visto i due tanti impegni, facciamo un bel massaggio rilassante. Eccoci. Allora, iniziamo. Barbara, ma lo sai che ti voglio dire? Che questa vita da mister mi sta proprio piacendo. Tu mi dovevi far rilassare. Il massaggio andava bene, ma basta con queste sopracciglia. Michele, dai su, vieni. Un attimo, fammi salutare Barbara. Barbara, ci vediamo. Continuo la sofferenza. Ciao. Io, ma voglio dire una cosa. Ma voglio dire una cosa. Teresa, tuo marito Salvatore, se le fa le sopracciglia? Sì. No. Però gliele faccio io. Ma mi crolla un mito. Ma che gli togli a Salvatore? Sì. Siciliano gli togli. No, però giusto qua, qualche peletto qui. Ma tu ti fai la ceretta? No, passo il rasoio. Ma il rasoio? Ma poi punge, oh. Eh, infatti. No. Ma che è sta cosa, scusate. Guarda la foto, guarda Barbara, guarda. Eh, la sto vedendo la foto. Cioè, che devo guardare? Questa è la mattina quando mi sono svegliato. Così. Così.